Ben trovati a tutti quanti, siamo qui all'apertura di Ecomondo e Key Energy, versione digitale, versione full digital 2020. Stamattina abbiamo avuto un'apertura con presenze istituzionali importantissime e la partenza anche degli stati generali della Green Economy. Alessandra Stolfi, Group Brand Manager di Ecomondo e Key Energy della Green Technology Division, di Italian Exhibition Group, ci dirà qualche pillola su quello che è stata l'apertura di stamattina. A te Alessandra. Grazie Mauro, abbiamo avuto sì la presenza di diversi ministri che hanno sottolineato l'importanza di Ecomondo e Key Energy come luogo dal quale possono partire delle soluzioni concrete al rilancio del nostro paese in chiave green. Quindi direi che c'è un grande orgoglio perché sarebbero stati in presenza, sono stati comunque con noi e con voi e questo ci aiuterà a tradurre queste proposte in azioni concrete, che è il ruolo che noi vogliamo giocare nella Green Economy italiana. Però vogliamo tramite l'intervento adesso di Christian raccontarvi anche questa piattaforma che cosa farà da oggi, che è stato il momento in cui l'abbiamo accesa, al 15 di novembre. Giusto Christian, ci puoi dire qualcosa su questo? Esatto, è stato un esperimento molto importante, un'attività difficile e anche ambiziosa, quella di riuscire a trasformare una fiera ibrida in una fiera completamente digitale. Il motivo era riuscire a valorizzare e a rispettare l'asset di Ecomondo e Key Energy, che sono le loro community, che sono molto legate alle nostre tematiche, ai nostri temi relativi alla Green Economy, alla sostenibilità energetica. E quindi era fondamentale riuscire ad avere un contatto diretto anche nonostante le difficoltà che ci ha creato questa pandemia. e siamo riusciti a valorizzare tutto il lavoro svolto nei mesi precedenti dalle associazioni che hanno lavorato con noi per creare un palinsesto di grandissima importanza per continuare a parlare di questo tema che non è affatto passato di moda con la pandemia, ma anzi è arrivato addirittura a essere al centro dell'attenzione. Quindi questo vuol dire che in questa settimana abbiamo trasferito tutti i contenuti delle 26 sale che avremmo costruito per Key Energy ed Ecomondo in un contenitore di webinar a questo punto, di convegni che andranno in onda in diretta in questa settimana dal 3 al 6 che sarebbe stata quella della pianificazione della fiera e poi riprenderà on demand con la possibilità di rivedere tutti i contributi che sono stati versati su questa piattaforma la prossima settimana fino al 15 di novembre. Una grandissima opportunità per rimanere in contatto, per avere la possibilità di continuare a dialogare fra di noi. Quindi l'invito è ovviamente quello a seguire questi eventi in diretta per questa settimana ma anche a poter rivedere la prossima, tutto ciò che non era stato possibile vedere questa settimana qua. Questo poi è soltanto un inizio perché in questa versione immateriale più digitale della fiera avremo anche la possibilità di riattivare la piattaforma per occasioni specifiche e particolari che potremo evidenziare nel corso del prossimo anno quando già lo sappiamo e dobbiamo già tenerlo in conto stiamo già ragionando e programmando su una grande, grandissima Key Energy Decomondo 2021 su cui dobbiamo posare delle basi solide per costruirci sopra una fiera ancora più interessante ancora più vicina ai temi delle tante, tante aziende che sono rimaste insieme a noi in questo periodo e anche in quest'anno in cui se non avessimo avuto la complicazione di questo ultimo DPCM l'avremmo avuta con noi a esporre fisicamente in fiera. Questo è un po' il succo di quello che stiamo facendo in questi giorni è partito stamattina con l'avvio della nostra piattaforma è chiaro che siamo anche disponibili a darvi assistenza tecnica c'è una mail specifica per esempio che si chiama digitalsupport.iegexpo.it digitalsupport.iegexpo.it a cui potete eventualmente mandare richieste specifiche perché se ci fosse qualche difficoltà nell'accedere a questi contenuti potremmo sicuramente essere di vostro aiuto quindi l'invito è a rimanere con noi a fruire di questo enorme lavoro che hanno fatto insieme a noi le nostre associazioni e a seguirci in quello che sarà già la prima parte, la prima fase dell'avvio del lavoro Ecomondo Key Energy 2021 Alessandra Grazie, allora Mauro Dele Fratti alla mia destra è il brand manager di Ecomondo Cristian Previati è il brand manager di Key Energy e siamo a nostra disposizione in queste settimane per darvi tutte le informazioni Mauro non so se vuoi aggiungere qualcosa anche sulle agende digitali per gli espositori per aiutare un po' a spingere i click Sì, come ha anticipato Cristian queste due settimane saranno fitte di incontri e di B2B in questa piattaforma digitale allo stesso tempo l'opportunità proseguirà perché il nostro obiettivo è quello di tornare ovviamente in presenza nel 2021 ma accompagnando degli appuntamenti durante l'anno come già abbiamo fatto negli anni passati di Ecomondo e Key Energy sia in presenza che in versione digitale quindi questo continuerà a essere un canale che darà la possibilità alle aziende di proseguire negli appuntamenti all'interno di questa piattaforma e poi avere delle occasioni in presenza che anticiperanno poi lo svolgimento delle manifestazioni dal 9 al 12 novembre del 2021 naturalmente lo sforzo che è stato fatto quest'anno è uno sforzo congiunto dalla parte organizzativa ma anche da parte delle aziende che ha citato Cristian Previati che hanno alimentato questa piattaforma e ora dei visitatori che hanno fatto un piano di agende per poter svolgere questi appuntamenti virtuali da non dimenticare la componente internazionale che resta per noi un asset fondamentale ci sono stati tantissimi appuntamenti anche con i buyer esteri che grazie alla collaborazione con ICE si trovano in questa piattaforma e potranno dialogare con i nostri espositori nelle prossime due settimane anche in questo caso l'esperienza e l'orientamento all'internazionalizzazione con i focus particolari che abbiamo sempre portato avanti del bacino del Mediterraneo saranno sempre comunque il nostro obiettivo quindi restate con noi queste due settimane popoliamo la piattaforma facciamola vivere questa piattaforma come vi dicevamo non si spegnerà definitivamente ma ci accompagnerà durante tutto l'arco dell'anno mentre noi e tutto il team di Ecomonde Chienergy e il team di IEG numeroso quindi tutti gli uffici trasversali che sono con noi nelle nostre attività stanno già pensando all'edizione futura l'edizione fisica quella che sarà dal 9 al 12 novembre 2021 e sarà un'edizione naturalmente speciale ci auguriamo che la pandemia sia come dire stata risolta che le nostre vite siano tornate alla normalità e quindi stiamo già lavorando su più fronti e quindi sul fronte ibrido di piattaforma digitale ma tornare a rivedersi in presenza a lavorare in presenza ed ospitare le nostre manifestazioni nel nostro quartiere fieristico di Rimini quindi per qualsiasi necessità noi siamo a vostra disposizione e vi chiediamo di lavorare insieme al progetto futuro grazie 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 a tutti l'appuntamento ovviamente è ancora in piattaforma per queste due settimane ci sono tanti contenuti ma anche tante tante aziende con possibilità di entrare in contatto con loro con delle video call con delle chat con delle possibilità di vedere i loro prodotti che avrebbero presentato in fiera e che hanno trasformato in una vetrina virtuale quindi un grande ambiente digitale nel quale entrare fare esperienze e soprattutto entrare in contatto con le aziende grazie a tutti e buona permanenza sulla nostra piattaforma Ecomondo Echi Energy Ecomondo Echi Energy Ecomondo Echi Energy grazie a tutti grazie a tutti